Il 10 luglio la Mediateca Montanari di Fano festeggia 12 anni di attività e lo fa organizzando un evento dedicato ai cittadini e ai bambini. Sono in programma dalle ore 16 fino alle ore 23 una serie di appuntamenti che spazzano dalla presentazione di libri, letture, incontri, inaugurazioni e spettacoli. È un programma molto ricco e finalmente dopo due anni segnati dalla pandemia torniamo a festeggiare in grande un appuntamento che per noi è molto importante ed è importante condividerlo con chi vive e fa vivere ogni giorno la Mediateca Montanari da 12 anni. Quindi l'appuntamento è per domenica, domenica 10 luglio a partire dalle 16 sia all'interno della Mediateca che negli spazi verdi della struttura. Appuntamenti per i bambini, per i giovani, per i lettori ovviamente ma anche appuntamenti con la musica e anche un incontro dedicato a quello che è lo sviluppo del sistema bibliotecario nella nostra città negli ultimi anni in particolare il progetto della nuova Biblioteca Federiciana che dialoga da sempre ovviamente con la struttura della Mediateca Montanari. E poi un altro appuntamento in qualche modo atteso e che segna anche la fine diciamo di un periodo un po' difficile per le biblioteche che è la ripartenza del Memo Caffè con la ditta Dusman a gestirlo e quindi con il tradizionale taglio della torta al quale invitiamo ovviamente tutti alle 8 alle ore 20 di domenica nei giardini della Mediateca Montanari. Grazie a tutti!